Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily. Ieri abbiamo parlato di cambi, euro dollaro secondo me abbiamo dato una bella operazione contro trend, oggi ci riproviamo però ci concentreremo sugli indici in particolar modo su quelli europei, ma andiamo subito sul grafico perché a mio avviso ci sono una serie di cose importanti da vedere, come indice ho selezionato il DAX che come potete vedere è uno dei più forti oggi a livello globale come indice, la situazione è questa siamo sui massimi storici di sempre e addirittura appunto quei massimi sembravano molto importanti segnati in estate sono stati violati recentemente siamo su dei livelli ancor più alti. Ora la situazione è questa, il trend è palesemente rialzista e vedete come sia stato forte il movimento al rialzo, in questo caso l'operazione che proponiamo oggi è un'operazione contro trend e sicuramente che presenta un elevato livello di rischio, come possiamo renderla più fruibile per tutti? Sostanzialmente riducendo il rischio tramite uno stop loss più stretto, in questo modo andremo a rischiare poco qualora dovessimo avere torto, ma potremmo ottenere un ottimo profitto nel caso dovesse tornare il mercato su quelle aree che una volta erano resistenza e oggi sono supporto, in una situazione di questo tipo abbiamo il vantaggio di poter prendere queste candele rosse che come sapete appunto si dice sempre si sale con le scale si scende con l'ascensore, ecco in una situazione di questo tipo potremmo vedere probabilmente oggi domani o alla peggio lunedì insomma una candela rossa di correzione, questo non vuol dire che io abbia una visione decisamente negativa sui mercati anzi ma sono convinto che dopo delle fasi di eccesso di questo tipo una correzione può essere tranquillamente dietro l'angolo e visto che l'obiettivo di Turbo Daily è quello di andare a fare operazioni di trading sicuramente questa è un'opportunità, andiamo sul sito di investimenti.bnp.it per vedere come impostare questo tipo di operazione, andiamo a cliccare su certificati a leva, Turbo e Mini Future, io ho già selezionato appunto indici, DAX, Short e le varie declinazioni limited e unlimited, ora all'interno della gamma di prodotti che è decisamente ampia sul sottostante dell'indice tedesco, io sono andato a scegliere un prodotto con un livello di knockout a 18.500 punti e che avesse una leva di circa 7 volte e mezzo, quindi diciamo una buona leva e un diciamo un prodotto corretto per questo tipo di operazione, quindi una leva superiore a 5 e un livello di knockout abbastanza distante dai livelli che stia abbattendo il mercato in questo momento. Voliamo quindi velocemente all'interno della piattaforma di negoziazione, io già ho selezionato appunto l'ISIN per voi, il livello corretto per entrare è 22 euro per singolo certificato, noi ne andremo ad acquistare 45, questo significa andare a comprare 1.000 euro circa di controvalore e circa 7.500 euro sul sottostante, il nostro ordine già all'interno del book di borsa in attesa di essere eseguito. A questo punto io direi di andare a ricapitolare insieme quelli che sono i livelli operativi, in questo caso appunto il livello d'ingresso è 16.305 quindi qualora dovesse essere raggiunta la soglia psicologica dei 6.300 punti, probabilmente ci sarebbe un ulteriore movimento al rialzo di qualche punto quindi ci metteremo short sul breakout diciamo di tale livello, per quanto riguarda lo stop loss lo andiamo a mettere a circa 150 punti quindi a 16.450 punti, per quanto riguarda invece il target price cerchiamo di tenerlo il più largo possibile quindi in area 15.950 punti appena sotto la rottura dei 16.000, altro livello psicologico importantissimo. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!